Sì, sono lieto di darvi il benvenuto al tradizionale concerto di Natale che il corpo musicale Alessandro Pirovano è lieto di offrire alla cittadinanza di Cercosco Lombardone. È inutile sottolineare come il concerto della nostra banda rivesta per tutti noi un'enorme importanza nel solco della tradizione. Questa è un'occasione per ribadire, qualora ce ne fosse il bisogno, quanto sia forte e quanto voglia continuare a consolidarsi il rapporto di amicizia tra la comunità cernuschese e il corpo musicale Alessandro Pirovano. Natale è ormai prossimo, è alle porte e noi vorremmo nella prossima ora allietarvi con della buona musica e accompagnarvi così alle prossime festività con serenità, gioia e anche un po' di spensieratezza. Il concerto di questa sera vedrà il nostro corpo musicale impegnato sotto la direzione, come ormai saprete benissimo, dall'anno 2009 del maestro Fabio Giannese. Il piacere di suonare insieme ha portato il corpo musicale a unire le forze e a cooperare con il corpo musicale rombiatese in una collaborazione dal Comune. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.